Salve, buongiorno a tutti, è l'onore Leuti, sono un finanzialista e per la seconda o terza volta ho ascoltato una lezione sulla valutazione degli investimenti. Una di quelle lezioni che si ascoltano sempre con grande interesse perché tutte le volte c'è un aspetto, una sfumatura che viene approfondita, una sfumatura che viene considerata e sulla quale si riflette con maggiore attenzione e sono i dettagli che poi ci danno la possibilità di dare di più quando andiamo in azienda. L'attenzione in particolare a quelle che per altri possono essere dettagli rilevanti e che invece noi sappiamo che costituiscono importanti differenze e un finanzialista non trascura mai i dettagli. Sa soprattutto che qualunque decisione va assunta con un grande senso di responsabilità perché quello con il quale noi abbiamo a che fare non sono le aziende, sono le persone e la loro vita e quindi la realizzazione dei loro soldi, delle aspettative, quindi tutto quello che c'è tra un'azienda, mercato del lavoro, benessere economico, insomma il piacere di sostenere grande parte, il piacere di sostenere quello che è il motore economico del nostro paese, gli imprenditori. Grazie infinite. Grazie a tutti.